potrei parlarvi di tanti altri muri il muro della pigrizia il muro della superficialità il muro dello scoraggiamento il muro della solitudine della tristezza ma l'unico antidoto che io posso comprendere dalla parola di dio su ogni muro che si deve davanti a noi rimane sempre la fede per fede fratelli e sorelle seguiamo quello che dio ci dice accettiamolo con tutto il cuore non porre dei dubbi davanti a quelle promesse che ci sono state già elargite gesù ti può liberare da tutti i tuoi peccati in un solo istante che possa scaturire dal tuo cuore una fede semplice genuina come quella di rab